Tra i numerosi finanziamenti agevolati che gestisce Phil Lombard, quello più consolidato è il FRIM Linea 1, finalizzato a supportare investimenti per la crescita e lo sviluppo delle PMI nel settore manifatturiero, nel settore dei servizi all'impresa, nel settore delle costruzioni. È un finanziamento che consente di finanziare fino a un milione e mezzo di investimenti con durate molto lunghe, fino ai 7 anni, anche con due anni di preammortamento e con un tasso di sicuro interesse perché i fondi regionali sono finanziati allo 0,5% mentre i fondi bancari sono finanziati comunque a un tasso convenzionale che può essere al massimo del 4%. L'interesse che le imprese hanno sempre dimostrato per il FRIM è soprattutto collegato a interventi finanziari di locazione finanziaria, quindi è tipicamente l'operazione che gode di maggior interesse e di maggior successo, quindi è un'operazione molto semplice in cui l'impresa ha già individuato il bene o i beni da acquistare, ha già in qualche modo individuato la società dei leasing che è interessata a finanziare l'investimento e quindi in tempi abbastanza rapidi riesce a ottenere un finanziamento che copre di solito l'intero ammontare dell'investimento. Rimangono ovviamente altri strumenti e lo sviluppo di ulteriori mezzi per finanziare la crescita e lo sviluppo delle imprese, tra queste si stanno affacciando nuovi strumenti, quale la linea innovazione, quale Alvia, che sono strumenti più strutturati, più articolati, anche con un fondo di garanzia collegato e un contributo di sicuro interesse che può sicuramente coprire il costo dell'operazione in termini finanziari e coprire anche parte dell'investimento.